Buongiorno, oggi voglio farvi un'altra tipologia di video, tipo una specie di purpurri, di reading vlog, non lo so come chiamarlo, un video che magari non avete mai visto sul mio canale. Oggi è 12 ottobre, è mattina, io sono tornata a casa dopo aver fatto i miei giri, aver accompagnato la mia bambina a scuola, dopo aver fatto qualche faccenda in casa, e adesso voglio ritagliarmi un po' di tempo per continuare le mie letture, intanto c'è la finestra che sbatte. Vi faccio un aggiornamento, sto portando avanti, sto quasi per terminare, su una pagina 144, le strane storie di Fukuyase, di Banana Yoshimoto, io mi sento di consigliarvelo, anche se non sono arrivata alla fine, però è una lettura che mi sta apprendendo molto, come immaginavo è una lettura, è una scrittura che mi piace, mi prende, mi cattura la penna di Banana Yoshimoto, una delle mie autrici giapponesi preferite, e la sua scrittura è veramente poesia, non lo so, c'è qualcosa che mi stimola sempre ad andare avanti, oltre le trame, la trama anche se è un po' triste, però io l'adoro, l'adoro, e vi volevo far vedere la trama, comunque parla, ve la dico io, in breve parla di queste due sorelle gemelle, i nomi non li ricordo, giapponesi, Mimi e Kodashi, che sono cresciute nella cittadina di Fukuyase, ma poi si trasferiscono a Tokyo, e sono orfane, il babbo è morto in un incidente, la mamma in coma, storia molto triste, storia però dal risvolto che non vi voglio dire, sono state cresciute da una coppia di amici dei genitori, e comunque una delle sorelle scompare a Tokyo, e l'altra sorella tornerà a Fukuyase, in questa cittadina, per cercare di avere notizie, e avrà anche delle notizie per quanto riguarda la famiglia, la sua famiglia, incontrerà personaggi misteriosi, e niente, il libro si svolge così, diciamo, dove è finita la sorella, dove, perché è scomparsa, ritornerà, si risveglierà poi la loro mamma dal coma, io vi lascio tutti questi punti interrogativi, anche se è già scoperto, gran parte, diciamo, quasi tutto, però mi mancano davvero poche pagine, e oggi dopo lo finirò. Poi un'altra lettura che sto portando avanti con il mio GDL Keke Booklover, come sapete, le sette morti di Evelyn Hardcastle, di Stuart Harton. Mi sono arenata, è un po' che non lo riprendo, oggi vorrei portarlo avanti, sono a pagina 336, questo libro non è nelle mie corde, anche se tutti ne parlano bene. La scrittura non è male, però non è tra le mie trame preferite, diciamo, è intrisa di misteri, di tanti personaggi, è un po' fantascientifico, diciamo, non riesco a dare una catalogazione a questo libro, sicuramente un giallo, thriller giallo noir, però ha molto anche di fantascienza, di questa persona che si rincarna in altri corpi per riuscire a salvare persone. Questo l'ho trovato al mercatino dell'usato, mentre questo qua me l'ha omaggiato la casa editrice Feltrinelli. E vabbè, però voglio essere speranzosa e voglio vedere dove mi porterà, se riuscirò a capire altro, perché fino adesso non è che, ho capito un gran che, sinceramente, sì, ho capito, però ci sono tanti, troppi intrighi, troppi personaggi, come già ho detto, non lo so, ma sicuramente non fa il caso mio, ecco. Poi vi voglio mostrare questi libri che sono entrati a casa, non so se poi sicuramente alcuni di loro usciranno, non lo so, le ho presi a Book Crossing. Ho preso questo libro di S, Storia di un vagabondo, Kralp, come si pronuncia, non lo so, un'edizione stra-stra vecchia, di Tascabili Economici Newton. Sono racconti, credo che siano, tre storie brevi, tre momenti diversi della vita di Kralp, questo protagonista di questo racconto. Vedremo. Poi ho trovato La casa nell'ombra di, eh vallo a pronunciare, Foldboken, Foldboken, non lo so, no vabbè, un capolavoro di suspense di un maestro del thriller nordico, quindi autore nordico. La trama è questa, il settantenne Jacob viene trovato morto dopo una festa nella tranquilla cittadina norvegese di Amar, l'ombroso commissario Valma e la sua giovane assistente Anita, si imbattono subito in una serie di dettagli molto singolari. Linda e l'anagrafe non esiste, ben due donne dichiarano di essere nelle fidanzate e tutto sembra ruotare attorno a questa antica villa dove vive Elise, una delle donne di Jacob, inquieta e ossessionata dal sesso, ma nessuno ad Amar sembra voler ricordare un passato ormai avvolto nelle ombre, una storia carica di tensione dalla prima all'ultima pagina. Vedremo. poi ho preso Kafka, L'avvoltoio, in questa edizione Oscar Mondadori, la biblioteca di Babele. Di Kafka ho letto La metamorfosi, romanzo alquanto strano, particolare, sicuramente anche questo, non so se fa il caso mio, vedremo un po'. E poi ho preso Anna Karenina, in questa edizione, uno dei classici, la stampa, boh, non lo so, perché mi fa impazzire, poi c'è scritto parte prima, neanche l'avevo visto, boh, magari ci saranno altre parti da leggere, però vediamo, non lo so, magari lo riporto lì, vedremo. E poi Acico, una storia d'amore di amicizia, di Newman, di questo cane, di questo uomo, il suo cane, una grande prova d'amore, è una favola per tutte le età. Anche questa mi pare un'edizione più vecchia, di Burr, Berizzoli. E niente, questi sono stati, insomma, nuovi entrati. Vi volevo anche far vedere questi due libricini di Coccole Books, una casa editrice con la quale collaboro. Questi due libri li ha scelti mia figlia, di sei anni, di Pino Pace, Mezza Mosca, il generale Babbo Natale, e hanno all'interno anche illustrazioni molto carine. E questo, La Costellazione del Chihuahua, di Dino Ticli. Dobbiamo ancora leggerli, poi quando imparerai a leggere, magari sarà una buona occasione per farli affrontare queste letture. Chi mi segue su Instagram, poi, ha già visto le mie nuove agende. Bene, sì, ho già preso la mia agenda settimanale per il 2023. Mi ha colpito subito questa copertina, questo dipinto di Vincent Van Gogh, molto bella secondo me. E c'era anche il bacio di Clint, altre agende bellissime, anche le ninfe di Monet. Io ho preso questa perché volevo, cercavo proprio un'agenda strutturata così. Allora, ve la faccio vedere meglio. Qui abbiamo tutto il calendario così di tutti i mesi, dove io mi appunterò qui, tutto quello che ho da fare, e poi la settimana. Le settimane sono strutturate così, verticalmente. Volevo proprio questa impostazione, molto schematica, pulita, visivamente d'impatto, diciamo, che apro senza tanti fronzoli, che apro e segno, vedo tutto quello che ho da fare. Poi di bello ha le pagine alla fine puntinate, dove ci può scrivere tutto liberamente. Le appunterò, insomma, voglia te. Io ho sempre tanto da scrivere perché mi piace proprio. Poi lo prendo proprio come terapia, mi fa stare bene. Io è una vita che scrivo. Tengo sempre dei diari dalla smemoranda ad oggi, insomma, varia gente. Qui abbiamo tutto il calendario dell'anno, così. Insomma, poi mi è piaciuta molto la carta, la qualità della carta, molto bella, secondo me, di questo colore avorio, non bianco, sottile al tatto, liscia, mi piace, con il segnalibro, il portapenna e l'elastico. L'ho pagata 15 euro, la marca è Art Diary. Non l'ho trovata su Instagram, anche se qui fa vedere che si trova, ma non l'ho trovata, non lo so, eppure l'ho scritto bene il nome. E niente, aspetteremo di usarla per il nuovo anno, per il nuovo anno. Anche la taschina all'interno, eh, questo è molto utile per inserire magari stickers, cose. Poi, come se non bastasse, per il nuovo anno mi sono già preparata, cioè alla fine manca. Siamo a ottobre, novembre, dicembre, due mesi, vola, il tempo vola. Avevo questa bellissima cover che avevo preso all'OVS e con dentro dei quadernini uno l'ho tolto perché siccome ho quella agenda già settimanale non mi serviva, era strutturata non come questa ma orizzontalmente, però quella. C'era dentro questo bellissimo quadernino con tutte scritte, dreams, planes, vedi, to do, journal, goal, molto carino secondo me. Anche questa è il portapenna, le taschine. Però io ci ho inserito questi quadernini favini, che li ho trovato a loro spine, dalla carta fantastica, anche se sono senza righe e quadretti, però vabbè, io mi sbizzarrirò liberamente a scrivere tutto. E poi sono bellissimi, guardate le stampe. Non costano poco, tra l'altro, non mi ricordo quanto l'ho pagati, comunque quadernini così su 4 euro, non ricordo. Diverse fantasie, io li ho messi qua con l'elastico e ho creato tipo la mia agenda. Ero intenzionata a prendere la Molle Skin di Frida Kahlo, ma costa un rene, e quindi ho rinunciato, visto che le agende e i quaderni non mi mancavano, e userò questa, perché per il momento, questo anno ho usato questa Midori. Guardate, guardate io, vedete, per farvi capire. Questa l'ho usata a mo' di Bullet Journal, però, e ho deciso quest'anno di non utilizzare più il Bullet Journal. Voglio cambiare, voglio optare per diverse cose, mi sono un po' stufata, perché sono tanti anni che uso il Bullet. E poi, però, per scrivere, insomma, di tutto, avevo comprato questa Molle Skin del Piccolo Principe. E dove ho scritto, 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 però ho notato che non l'ho usata. Durante l'estate scrivo meno, e quindi mi sembrava un po' uno spreco ricomprare una Molle Skin, anche perché costano, per carità, la carta è unica, però vabbè. E, oltre le agende, oltre le agende personali, vi volevo far vedere i miei due quaderni per i libri, diciamo, a dbt, solo a libri. Ho questo qua, un'agendina, note, presa a Lidl, dove qui io, ogni libro che leggo, mi scrivo, oltre trame, vabbè, per parlarvene, magari, per ricordarmele di più, le mie impressioni sui libri che ho letto. E vorrei portare avanti questa cosa. Insomma, alcuni li ho saltati, eh, perché, insomma, è una cosa abbastanza impegnativa, però vorrei continuare a farlo, eh, vedete, settembre, qui ho scritto molto, molto male, cioè, nel senso molto velocemente, divisi per mesi i libri che leggo. E questa, invece, che vi avevo già mostrato in un video, se andate all'inizio dei miei video, lo trovate, su questo notebook, preso sempre, mi pare, a Lidl, io ho, eh, nelle prime pagine, i libri letti, elencati, però, tutti i libri letti a gennaio del 2021, quando eravamo in quarantena ne leggevo tantissimi, tipo 20, ora non ci arriverò mai più, febbraio 2021, sempre, insomma, tutto l'anno, marzo, aprile, nel 2021 lessi tanto, poi 2022, già, vedete, come diminuiscono, però, insomma, sono sempre, non è, poi, una gara, chi legge più libri, io, sinceramente, preferisco, vi dico, preferisco la qualità, la quantità, però, insomma, gennaio 2022, febbraio, quest'anno, marzo, i primi mesi ho letto sempre 11-12 libri al mese, poi sono calata a 9, aprile, maggio 7, 11 giugno, luglio, tre libri soli, ma va bene così, agosto 10, settembre 8, ottobre vedremo, ottobre non credo che ne leggerò parecchi, vedremo un po', e qui ho lasciato altre pagine per finire l'anno, poi, libri acquistati a gennaio, sempre, 2021, e ho sottolineato tutti i libri che ho letto, quelli non sottolineati sono quelli che ancora mi mancano da leggere, vediamo un po', e poi il totale di quanto ho speso, cioè, a gennaio io ho speso un botto per i libri, come vedete, però, ora, perché non avevo ancora scoperto i mercatini dell'usato, e febbraio questi, però me ne mancano sempre da leggere, vedete, quelli che non sono in bianco, quello che ho speso, marzo, questa cosa mi piace moltissimo, perché mi fa proprio rendere conto, oltre che dei soldi che mi partono, proprio dei libri che mi rimangono da leggere, vedete, anche i libri presi in biblioteca, libri che mi sono stati omaggiati dalle case editrici, giugno, questi che ancora devo leggere, e così ho fatto poi nel 2022, vediamo, 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 questo è il 2021, e mi segno anche dove gli acquisto, i mercatini, i vari mercatini, vedete, gennaio 2022, tutto, sono ancora tantissimi libri che devo leggere, però se volete prendere spunto, questa cosa è molto pratica, carina, mi piace molto, e continuerò, poi nelle pagine successive, mi sono segnata i libri che avevo in wish, quelli che ho recuperato, qui una cosa molto schematica, libri letti, libri acquistati, però questa non la sto portando più avanti, book tag, le tbr, mi sono segnata, poi qui mi era presa la pazzia di scrivere tutti i libri che mi mancano da leggere, e anche oltre le mie tbr, anche libri che propongo nel mio GDL, e poi qui tutti i libri di Stephen King, quelli che leggo, libri da portare al mercatino, poi un sacco di cose, avevo anche questa agendina qui, dove qui mi, bellissima anche questa, guardate i sushi, che ho preso all'Eurospin, anche questa, lì do l'Eurospin e regalano gioie, e qui mi segnavo i scambi, mi segnavo, mi segno, però poi non ho più scritto, le avevo continuato a scambiare, vabbè, perché me li segnavo qui, e queste sono tutte le mie cosine, agende varie, cancelleria, eccetera, qui ho un pacchetto da spedire, e poi appena ne accumulo altri compiego di libri, andrò in posto a spedirlo, e poi vi volevo fare un giorno di questi, non lo so quando, come vi avevo detto nel precedente video, un aggiornamento sulla mia libreria, un bookshelf tour, non lo so, insomma, una cosa del genere, levando foto, i gingilli vari, non sarà molto semplice, perché come vedete ho dei libri in doppia fila, devo smantellare tutto, buttare tutto giù, e però ve lo voglio fare presto, via, voglio farvelo, perché ci tengo, che altro dirvi, l'ho sistemata anche giorni fa, l'ho data una pulita, l'ho sistemata, l'ho messa in un ordine più decente, tutti catalogati, insomma, in case editrici, e come vi dicevo, qui partono, qui sotto partono tutti i libri, che devo ancora leggere, sono una marea, e sopra i libri, che ho letto, poi ho anche altri libricini, libri in questo angolo qua, in questi angolini, questi sono tutti libri, di crescita personale, la maggior parte, però se volete vederli, vi faccio vedere anche questi, a me piacciono tanto, e poi, qua in cameretta della mia bambina, ho messo alcuni libri, per ragazzi, per bambini, se volete vi faccio vedere anche questi, fatemi sapere, tutti i libri di Bambaren, qui, enciclopedie 15, chi se li ricorda, se li ricorderà, solo chi è nato negli anni, 80-90, 90 non lo so, qui teniamo questi, bellissimi, come veramente dei gioielli, ho visto che sono usciti, altri libri di poca campo edizioni, qua altri libricini, qua metto i libri che ho già letto, sotto ho tutta la parte di, che presi, con un abbonamento, di dei personaggi storici, molto molto belli, però poi ho smesso, perché costavano veramente un sacco, e qua sotto altri libri, della mia bambina, qua anche, questi sono i miei, che ci tengo tantissimo, storie del bosco, e nulla, io vi saluto così, ci vediamo presto, fatemi sapere, se questo video vi può piacere, questa tipologia di video,